Buongiorno a tutti, bentornati qua nella nostra galassia. Prima di iniziare il video volevo ricordarvi di iscrivervi al canale se non lo siete già e di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle uscite dei nostri video. Oggi doppio video in uno sul dove trovarli. Partiamo subito spiegando dove trovare la missione secondaria nascosta. Per farlo i giocatori devono andare a sud-est dal punto di controllo di Neve Hill arrotondando l'angolo curvo della strada verso un edificio vicino all'SDK, l'SHD Tech, non l'SDK. Questo edificio presenta una porta piuttosto anonima con armadietti e un impronta d'uomo al suo interno. I giocatori che si avventureranno in questo spazio si imbatteranno in un NPC. Parlandoci, questo NPC vi attiverà la quest secondaria nascosta che vi porterà a una ricompensa per una skill. È abbastanza semplice, nulla di complicato. Ebbene, presa la skin, avete finito la missione nascosta? Andiamo a trovare l'alligatore nelle fogne, che è un po' più divertente. Ma come trovarlo? Semplice, ve lo spiego io. La storia dell'alligatore era già uscito come uovo di Pasqua in The Division 1 a New York, ma non si era mai riuscito a trovare. Questo perché non avevamo le fogne. Ma qua in Washington le cose cambiano. Per trovare questo alligatore, i giocatori della Division 2 dovranno procedere verso West Potomac Park e entrare nelle fogne vicino al 14-15 sud-ovest e al Jefferson Drive sud-ovest. L'ingresso nel tombino, trovato vicino a Jefferson Drive, consentirà ai giocatori di scendere nelle fogne. L'unica parte visibile dell'alligatore sarà la coda, quindi i giocatori dovrebbero tenere bene gli occhi aperti. Questo è il primo easter egg del gioco. Svelato e ovviamente ce ne saranno altri. Con questo piccolo video è tutto. Noi ci rivediamo la prossima volta, magari con notizie riguardo al ride. GG a tutti quanti.